Ciao a tutti ragazzi, io sono Emaki ed eccoci qui con un nuovo episodio di Runaway. Allora, riprendiamo più o meno da dove ci eravamo lasciati, perché nel primo episodio della serie appunto avevamo lasciato la nostra Noelle e il caro Lucas in procinto di uscire a divertirsi. Ed in effetti sono venuti qui con i colleghi, che sono questi qui e adesso ce ne sono altri. E il posto, ve lo faccio vedere subito, è questo qui. Non ricordo come si chiama purtroppo, quindi non so dirvi come si chiama, ma se mi ricordo di andare a vedere magari ve lo metto nella descrizione del video. Comunque lo adoro tantissimo. E sì, ho immaginato che comunque è molto piccolo in realtà, però ho immaginato proprio che i colleghi dopo il lavoro ogni tanto vengono qui per passare un po' di tempo insieme. Quindi i colleghi credo siano tutti, tutti loro. Praticamente il locale è fatto solo dalla polizia, praticamente è così. Allora abbiamo, ve li presento un po' tutti. Kenny Faviel, o Faviel, non so come pronunciarlo. Poi abbiamo Olivine Khan, che comunque Noelle va molto d'accordo con Olivine. Poi abbiamo Marcus Flex, non so perché non mi faccia vedere il suo nome, Marcus Flex. Poi abbiamo Jenny Foster, eccola qui, che la vedo un po' triste in realtà. E Nox, ragazzi, Greenberg, che mi sembra particolarmente interessato alla nostra cara Jenny. E poi qui abbiamo ovviamente Lucas, che è impegnato a parlare qui con Becca. Che se vi ricordate, nello scorso episodio era con noi alla scena del crimine. Allora, intanto metto play così qui faccio continuare questa partita. Si stanno un po' sfidando. Prima praticamente avevano fatto una sfida loro due contro loro due. Adesso si sono un po' invertiti i ruoli, quindi sono curiosa di vedere chi vincerà. Devo dire che sono molto contenta perché Noelle con questo lavoro ha davvero trovato degli amici, comunque delle persone di cui si fida. Sappiamo comunque che per lei, specie in passato, era molto difficile fidarsi degli altri. Però le piace, le piace stare con queste persone. Diciamo che non tutti o tutte le fanno molta simpatia. Riferimenti a Becca sono puramente casuali. Però ci siamo. Oh ragazzi, la nostra cara Noelle è diventata flertante. Vi chiederete perché. Quindi andiamo a leggere subito. Cotta nei dintorni. Essere vicini alla propria cotta ti permette di provare dei sentimenti romantici innegabili. Sia che l'interesse sia reciproco o meno. Ebbene sì ragazzi, la nostra Noelle ha una cotta per qualcuno qui dentro. E quel qualcuno ragazzi, per felicità di molti, è proprio Lucas. Il problema ragazzi è che Lucas, come vedete, è preso da Becca. Si sta frequentando con Becca. Quindi capite anche perché la nostra Noelle non ha molta simpatia a Becca. Perché si è presa questa cotta per Lucas. Perché comunque, passati tutti questi anni, eccetera, il loro rapporto si è notevolmente rafforzato. Ciò ha portato appunto Noelle a far crescere questi sentimenti che non pensava di provare. Però sì, si è presa questa cottarella, avendolo comunque anche sempre vicino. Perché lui era sempre vicino a lei. E quindi sì, la cotta c'è ragazzi, la cotta c'è. Molti di voi saranno felici. Non so dove andrà a finire questa situazione. Se questa cotta prenderà forma e diventerà qualcosa di più. Perché ripeto, Lucas è preso da Becca. Però chissà, magari Noelle riuscirà a farsi vedere da Lucas in modo diverso. Perché comunque in realtà Lucas al momento, è specifico appunto al momento perché non si sa mai per il futuro. Però al momento non la vede come una possibile fidanzata. La vede più come un'amica. Quindi è tutto da vedere ragazzi. Ah, è arrivato il barista, ottimo. E allora facciamo una cosa, ordino una bevanda di gruppo e ci ordiniamo, vediamo un po'. Questa qui, ci ordiniamo questa. Allora aspetta, con Lucas ci parliamo dopo. Prima ordiniamo la bevanda. Lasciamo perdere la partita perché vedo che altrimenti durerebbe all'infinito. Quindi ordiniamo da bere e proviamo a parlare con Lucas. Qui lei non so che cosa stia scrivendo. Ah, compiti universitari, quindi forse sta seguendo dei corsi pure all'università. Ok, va bene. Ecco, tutti stanno venendo qui a bere. Però adesso parliamo un po' con Lucas. Afferma la correttezza. Ok. Guardatela, è diventata tutta rossa. Perché ormai ragazzi quando c'è Lucas, lei è un po' non impacciata perché non è proprio nel suo stile. Non è andata d'accordo, cioè non è andata bene questa cosa. Oh mio Dio. Secondo me ragazzi, perché sto immaginando ed è una cosa in effetti da Noelle. Secondo me lei ha fatto qualche battutina su Becca. Perché lei è così, ripeto. Lei non se le tiene queste cose. E quando le dà fastidio una persona non è che lo nasconde e fa diciamo la finta tonta. Cerca di fare insomma buon viso a cattivo gioco. No, lei se non le piace una persona lo dice chiaramente. Quindi sicuramente questa cosa a Lucas dà fastidio. Perché ovviamente lui ha interesse per Becca. Oh mio Dio ragazzi. Qui disastro ragazzi, disastro. Perché giustamente lei non vuole, come dire, non vuole passare dal lato negativo di Lucas. Però se si comporta in questo modo rischia di farlo accadere appunto. Quindi vedremo un po'. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Porta il cane a fare una passeggiata. Oddio le manca moci. Vince una partita a carte. Ok. No, stavo pensando di farla parlare con Becca. Ma in realtà secondo me lei di sua spontanea volontà non parlerebbe con Becca. Piuttosto voglio parlare con Olivin. Facciamo magari Rallegra. E facciamo anche... Vediamo un po'. Amichevole. Facciamo... Chiedi del gusto musicale. Dai. Vediamo un po' qual è il suo gusto. Ok. Io poi continuerei a parlare un po' con Lucas. Ma se io faccio una barzelletta per flirtare. Vediamo un po' che cosa succede. Se Becca si infastidisce. Sono curiosa. Adesso vediamo un po'. Qui che cosa c'è? Si dia inizie bei momenti. Ottimo. Barzelletta per... No ragazzi. Becca si è super infastidita di questa cosa. Sono curiosa di capire se a lui piace. Ok. Lui la barzelletta l'ha presa bene. Però come vedete ragazzi. Lei non è molto compiaciuta di questa barzelletta. Tipo ma... Ma scusa ma che cos'è ridi alla barzelletta della tua amica? Cioè io sono proprio qui. Ragazzi a Noelle non importa minimamente. Cioè proprio minimamente. Oddio lei è delusissima. Secondo me per niente li farà litigare Noelle con questa storia. Cioè quando andranno a casa litigheranno questi due. Aiuto. Oddio mi è spuntata la barra romantica. Non me ne ero resa conto. Fermi dov'è? Ma... No scusatemi ma... Perché hanno tutti la barra romantica? Io l'ho fatta solo a lui questa cosa. Ragazzi mi sa che c'è un bug con le conversazioni di gruppo. Perché... Dico io l'avevo fatta soltanto con lui questa cosa. C'è la barra romantica con tutti. Ma non ha senso. Io quindi toglierò qui tutto. E cercherò di capire questa cosa. Perché questo bug è stranissimo. Ma va bene. Non importa. Fingiamo che non sia successo niente. E vediamo. Oddio è luna di notte in realtà. Quindi sarebbe il caso di tornare a casa. Ok ragazzi. Buongiorno. Noelle si è appena svegliata. Sono le 7 e 20 del mattino. Sì perché in realtà è diventata davvero molto mattiniera ultimamente. Quindi adoro questa cosa. Però adesso la faccio mangiare. E oggi è sabato. E lei andrà a trovare qualcuno. Quindi vabbè. Intanto la faccio mangiare. Sarei tentata anche di farle fare un po' di jogging prima. Quindi magari sì dai facciamo in questo modo. Vediamo che cosa c'è nel frigo. No però non c'è nessun cibo da colazione. A parte la torta. Ma sì dai. Mangiati una fetta di torta. Perché no. Vediamo. Il nostro gattino ha da mangiare. Dov'è la ciotola? Eccola qua. No. E allora facciamo riempi la ciotola. Magari chiacchieriamo anche un po' con lui. Facciamo l'Oda. Che carino facciamo. Vediamo un po'. No. La manzina non gliene faccio per il momento. Facciamo impara a conoscere. Ok. Lei si mangia la sua torta. E poi va a fare un po' di jogging. Il tempo non è dei migliori. In realtà è molto nuvoloso. Però vabbè. A lei diciamo non importa tanto. Vieni pure qui a sederti. Ok. Potresti allenarti qui alla tv. Vediamo. Allenamento. Video di potenziamento muscolare. Dai. Detto che non può fare jogging. Perché purtroppo c'è proprio un temporale. C'è caldo ma c'è il temporale. E vabbè. Ok. Allora rimani qui. Ti fai il tuo allenamento. Perché lei comunque lo immaginata. Che si allena ogni giorno. Magari non proprio per tanto tempo. Nel senso massimo un'oretta. Però secondo me lei ci tiene a fare qualcosina. Ecco. A tenersi in forma. Anche perché la forma fisica comunque le serve per il suo lavoro. Allora. Fatti magari un bagno super veloce. Poi ti lavi i denti. Perché comunque lei purtroppo non ha una doccia. Quindi deve fare per forza il bagno. Si fa. Si lava pure i denti. E poi direi che possiamo andare. Sì dai. Anche perché sono quasi le 10. Quindi ci sta. Va bene dai. Basta fare il bagno. Perché dura troppo purtroppo. Rispetto alla doccia. Quindi va bene così. Si è anche cambiata. Ed è super carina. Lavati i denti. Ok. E poi ce ne possiamo andare. Che succede? Ah ok. Hai i denti bianchissimi. Perché appunto se li hai lavati. Che cos'è questo? No. Niente ballo. Spegniamo piuttosto qui la radio. Salutiamo il nostro caro Remington. Facciamo magari. Volevo fare abbraccia. Però non mi spunta. Quindi vabbè. Fingiamo di averlo salutato. E ce ne andiamo. Ed eccoci qui amici. Come vedete siamo in un posto molto particolare. Penso che abbiate comunque capito. Siamo ad Oesi Springs. E il posto in questione ragazzi è una prigione. Ebbene sì. Perché siamo venute a trovare il nostro caro Drake. Sì ragazzi. Perché la nostra Noelle viene a trovarlo spesso. Ogni volta che può lei viene qui. E vuole parlare con Drake. Anche per fare semplicemente compagnia. Credo di averlo. Ah no. Ok. Non è lui. Pensavo fosse lui. Questi sono dei. Lui non so se è un. Agente. Ok. Lui è un agente di polizia. Che si sta allerando qui. Con un carcerato. Non so dove sia Drake. Di preciso. Però adesso lo scopriremo. Ma per bussare alla porta. Dove devo andare? Qui? No. Perché devono farmi entrare. Quindi devo capire. Ok. Busso alla porta. Questo credo sia l'angolo proprio degli agenti di polizia. In cui appunto. Tecnicamente dovrebbero poter entrare soltanto loro. Ma qui c'è un. C'è un carcerato ragazzi fuori. Ok. Vabbè. Fingiamo che. Che sia dentro. Purtroppo non so come ci sia finito. E vedo già il nostro Drake. Che ci aspetta nella sala d'attesa. Questa prigione è stata costruita da Little Simsy. Quindi la trovate nella sua galleria. La trovo molto carina. È molto piccola. Però mi piace così. Qui ci sono i letti. Io ho semplicemente messo alcuni letti a castello. Perché altrimenti non c'entravano tutti. Qui vedo un carcero. Che è un adolescente questo. Oddio. E sta parlando qui da solo. Ok. E andiamo subito dal nostro Drake ragazzi. Che sta parlando al telefono. Perché comunque è sorvegliato qui dalla gente. Guardatelo il nostro Drake. Devo assolutamente fare una foto. È proprio carino. Allora dai vieni qui. Fai così. Vai qui. E salutiamo Drake. Eccoci qui. Allora. Salutiamo appunto la gente. Perché appunto lei comunque venendo qui molto spesso. Lo conosce questa gente. E poi dico. Sono colleghi di lavoro. Quindi ci sta. E poi Drake. Sediamoci qui. Vediamo un po' se ti siedi vicino a me. Siediti insieme. Ti siedi qui con me. Sì. Perfetto. Ma perché mi spuntano cose dai sim che non controllo? E lei ragazzi adesso parlerà un po' con Drake. Facciamo una bella conversazione profonda. Ed eccoci ragazzi. La nostra Noelle sta parlando un po' con Drake. Lo sta un po' aggiornando. In particolare proprio sul caso. Cioè gli sta dicendo secondo me che ancora non ha trovato tutto quello che le serve per poterlo fare uscire. Però gli sta dicendo ti prometto che ti farò uscire da qui al più presto. So che la data di rilascio si sta comunque avvicinando. Però io se riesco sto facendo davvero tutto il possibile per farti uscire da qui. Ti prometto che sarai libero perché sei innocente. Non è giusto che tu sia qui. Che carina. Lui le sta dicendo ma basta Noelle. Basta. Rassegnati. Io ormai qua mi sono ambientato. Lui ovviamente non è che sia ambientato. Semplicemente non vuole farla preoccupare. Non vuole farla stressare. Quindi sta cercando un po' di dissuaderla dal continuare queste continue ricerche. Che probabilmente non porteranno a nulla. E quindi lo fa diciamo per il suo bene. Ecco facciamo magari i chiedi della sua giornata. Perché comunque lei gli dirà ma col cavolo che io lascio perdere Drake. Cioè ti devo un favore enorme tu lo sai. E comunque vabbè dai dimmi che cosa fai qui. Che cosa che mi racconti di nuovo. Perché secondo me lei glielo chiede spesso. Ogni volta che viene qui chiede un po' anche lei le novità. Ragazzi Drake comunque è molto grato del fatto che Noelle venga qui a trovarlo. Le dice sempre di andarsene. Lui non vuole da un lato che lei venga qui. Ma ovviamente in realtà sotto sotto è contento di vederla. Non so il fatto che lei nonostante siano passati tutti questi anni continui a venire qui. A lui fa un po' scaldare il cuore. Questo lo devo dire. Perché è proprio vero. Cioè lui è proprio contento ogni volta che la vede. Gli ritorna il sorriso. Ok lei si sta peraltro rilassando. Perché ragazzi il loro rapporto comunque. Nonostante appunto siano divisi dal fatto che lui sia in prigione. Il loro rapporto comunque è migliorato tantissimo. Proprio come con Lucas e Noelle appunto. Anche il loro rapporto è molto migliorato. Lei non ha una cotta per lui. Ma perché un sentimento con la gente? Ah ok sono le prime impressioni. Ecco immaginavo che a Noelle questa gente non piacesse molto. Perché è drammatico. Va bene non importa. Però dicevo Noelle non ha una cotta per Drake. Però insomma è molto legata a lui. Questo sì assolutamente. Allora vediamo se posso fare magari azioni. Proviamo anche con lui. Sono curiosa di capire se anche con lui questa interazione non va. Perché con Lucas non è andata molto molto bene questa interazione. Quindi sono molto curiosa. Vediamo un po'. Ok. Oddio ma mi sa che non è un'interazione amichevole come come me la fanno vedere. Ma perché? Vabbè facciamo magari una storia coinvolgente. E poi quasi quasi io lo abbraccerei ragazzi. Sì perché dobbiamo salutarlo. Adesso si sta facendo tardi. Lei dovrebbe anche mangiare. Lei in realtà vorrebbe rimanere qui un altro po'. Però lui le sta dicendo vai vai è tardi devi mangiare. Vai vai da Francine perché ormai lui sale. Secondo me gli racconta ormai tutto. Anche proprio delle sue giornate. Non so se gli racconta di Lucas. Il fatto che ha questa cotta per Lucas. Questo non lo so se glielo racconta. Magari aiutatemi voi nei commenti. E ditemi se secondo voi gli racconta anche questo tipo di cose. Però sicuramente di Francine sì. Cioè proprio assolutamente. Di Francine è tutta la famiglia comunque. Perché non solo Francine. Io devo assolutamente fare una foto di questi due ragazzi. Cioè guardate che belli. C'era mancato Drake. Dobbiamo dirlo. Anche se non siete shipper. Dobbiamo ammettere che Drake c'era mancato. Anche perché ragazzi. Il gesto che ha fatto nei confronti di Noelle è stato grandissimo. Cioè lui si è sacrificato tanto. Per anni è rimasto qui in prigione. E sta continuando a rimanere qui in prigione. Perché ha salvato lei. Sostanzialmente. Perché avrebbe dovuto esserci lei qui al suo posto. Quindi cioè. Che voi siete shipper. Dobbiamo ammettere che Drake si è dimostrato un ottimo amico. Comunque un ottimo alleato. Ecco diciamo così. Va bene dai. Direi che magari facciamo un ultimo Adula. E poi ce ne andiamo. Ok Drake. Adesso vado allora. Però sei tranquillo. Perché appena un po' di tempo libero. Tornerò a trovarti. Lui è tipo sì sì ok va bene. Ma adesso adesso vai. Che hai la tua vita da vivere. Quindi vivi la tua vita. Mi raccomando. E non pensare a questo stupido caso. Ok? Pensa al tuo lavoro. E alle tue cose. Non a me. Ok? Benissimo. Ok. Adesso mi sa che lei andrà a mangiare qualcosa. Ed eccoci qui amici. Siamo venuti in questo posto. Se vi ricordate qui. Eravamo venuti anche con Eddie. Però siamo venuti qui perché comunque il cibo a Noelle piace di questo posto. Certo non è dei migliori, dei più di lusso eccetera. Però le piace questo posto. E siamo qui ragazzi con Jeb. Che sarebbe il nipote di Francine. Che in pratica è il migliore amico di Noelle. Cioè ormai sono migliori amici. Vanno super d'accordo. Anche lui adesso vive da solo. Aspettate che ordino da mangiare per entrambi. Facciamo così magari. Lui si prende un hamburger vegetariano. Perché non ricordo se effettivamente è vegetariano. Quindi per sicurezza facciamo in questo modo. E lei si prenderà un hamburger normale. Ok. Dai facciamo così. Così almeno intanto ci portano da mangiare. Facciamo amichevole. Facciamo adula. Magari raccontiamo anche di Drake. Facciamo elogio un altro sim. Ed elogiamo Drake. Dov'è? 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 Ecco qui. Allora ragazzi. Dicevo appunto che loro sono ormai i migliori amici. Dopo tutti questi anni. Lei ha trovato proprio in Jeb. Un confidente speciale. Si vogliono davvero tanto bene. Cioè proprio sono inseparabili. Anche lui adesso vive da solo. Vive sempre ad Evergreen Harvard. Però vive in un appartamento se non sbaglio. Quindi sì. Si è allontanato appunto dalla famiglia. Ma in realtà ragazzi. Loro ogni domenica si vedono. Quindi adesso è sabato. Che cosa? Cosa? No. Ma che cosa sta succedendo? No ragazzi. Qui c'è un problema. No. No. No ragazzi. Cioè voi non capite. Ma in che senso lui sta flirtando con lei? Ma ragazzi. Allora. Qui abbiamo un grosso problema. Ma proprio grosso problema. Adesso vi spiegherò anche perché. Ragazzi Jeb. In realtà. Non credo sia etero. Quindi. Non so perché stia flirtando con Noelle. Cioè non ne ho la più pallida idea. Sicuramente ci sarà in questa zona di Evergreen Harvard. Il piano d'azione. Ne sono proprio sicura. Che ovviamente non ho messo io. Perché questi piani d'azione si mettono in automatico. Ma io non voglio questo. Nel senso. Perché sta flirtando con lei? Lei sapete che cosa? No. Credo di aver capito. Sapete cosa? Lei stava parlando di Drake. Quando poi lui si è alzato e le ha fatto quella scenetta. Secondo me lui l'ha presa un po' in giro. Sul fatto proprio che lei continua ad andare da Drake. Quindi ha detto ma non è che ti piace Drake. Le ha fatto un po' queste battutine così. E quindi magari questo flirt in realtà era proprio questo volerla stuzzicare sul fatto che a lei possa piacere Drake. Quindi probabilmente era questo. Perché altrimenti veramente ragazzi non me lo spiego. Chiedi della sua giornata. Sì. Perché lei lo stava appunto elogiando Drake. Quindi ci sta. Ci sta. Magari sarà forse anche lei un po' maliziosa. Facciamo magari... Condividi la teoria del complotto. Lei appunto gli dirà ma... Cioè Jeb. Che stai dicendo? Non vedo Drake in quel senso. Lo sai perché vado da lui? Perché sì ragazzi. Io penso che lei abbia raccontato a Jeb la verità. Quello che è successo. Perché di lui si fida davvero ciecamente. Come con Lucas. Di lui si fida davvero tantissimo. E quindi gliel'ha detto. Che succede? Ascolta i pensieri malinconici. Aiuto. Chi la chiama? Chiama un amico. Secondo me la sta chiamando Lucas. Aspettate che voglio farle una foto. Perché è super carina. Cioè io mi fermerei ragazzi a farle foto continuamente. Però è troppo carina. Comunque adesso continuo a mangiare. Lei gli ha detto. Guarda Lucas. Adesso sto prendendo con Jeb. Magari ti richiamo dopo. Cosa? No ragazzi. Era Drake. L'ha chiamata Drake ragazzi. Dalla prigione. Probabilmente. Magari aveva quegli orari in cui poteva fare una chiamata ovviamente sorvegliata. E l'ha chiamata. Ma perché l'ha chiamata ragazzi? Perché lui in realtà non lo farebbe mai. È la prima volta che lo fa. Infatti secondo me lei ci sta pensando. Anche perché dalla voce lo sentivo un po' strano. Secondo voi che cosa potrebbe essere successo? Perché Drake l'ha chiamata? Ma io a questo punto ragazzi terminerei qui l'episodio. Eh sì. Terminerei qui l'episodio perché voglio sapere cosa ne pensate voi. In particolare appunto di questa chiamata. Secondo voi perché Drake l'ha chiamata così di punto in bianco? E ripeto che lui non l'ha mai fatto prima d'ora. In tutti questi anni in cui lui era in prigione lui non l'ha mai chiamata. È sempre stata lei ad andare da lui. Nonostante lui le abbia detto di non farlo. E adesso lui invece l'ha chiamata. Perché? Secondo voi che è successo? Adoro. Adoro. Vi prego fatemi sapere perché sono troppo curiosa di sapere le vostre teorie. Quindi niente. Io vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere il mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!